La situazione politica e istituzionale in questo momento che sembra molto incerta, molto confusa, sta creando anche dei problemi al campo della salute e del welfare, dello stato di benessere del nostro Paese. Secondo lei, Professor Schitulli? Certamente il Paese ha bisogno di riprendersi e deve riprendersi attraverso un senso di responsabilità che deve accomunare tutti i cittadini. Questo significa che l'attenzione maggiore deve essere posta su due problematiche, una riguarda il lavoro e l'altra la salute. Dobbiamo cercare di mantenere in salute tutti i cittadini per garantire anche il lavoro e quindi l'attività produttiva. La salute però oggi è abbinata anche allo stato sociale della persona, di cui quindi la necessità che si possa rivedere il Servizio Sanitario Nazionale. Io personalmente mi rifaccio alle parole anche del Cardinale Martini. Io non penso alla sanità come ad un'azienda, né alla salute come ad un prodotto, soggetto cioè alle leggi economiche di mercato, né penso al malato come ad un cliente, perché il profitto non vale più della vita. Poi dobbiamo anche in virtù del nuovo Papa, di Papa Francesco, cercare di intendere che la sofferenza rappresenta l'anello debole di una persona, per quanto questi possa essere forte, potente, ricco. Ecco l'importanza allora di sapere abbinare il meglio della sanità con l'aspetto sociale che significa il rispetto della dignità della persona umana, soprattutto nel momento della sofferenza. Noi abbiamo un grande problema finanziario, economico che si riversa pesantemente a livello regionale sulla sanità. Ecco è necessario spoliticizzare in un certo senso la sanità e ridare al medico, agli operatori sanitari il valore della loro mission che è prendersi cura del malato, prendersi cura del cittadino sano per mantenerlo sano.